ragazzi ciao a tutti abbiamo una sorpresa oggi facciamo unire facciamo unire, spegni le macchine, spegni le macchine Alex, spegni le macchine ragazzi ecco noi con Alex, oh c'è un'altra macchina, noi vogliamo unire tre giochi perché qui abbiamo un gioco e due macchine che abbiamo acquistato a parte, eccoli qua e questo, oh Alex che c'è di questo maxi 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 gioco di ben 192 pezzi, avete visto? ci sono nuove piste, guarda, non sai correva quella macchina? guarda, guardate bambini, ragazzi abbiamo 192 pezzi, ponte, questa Alex c'è, ecco, mia Alex che cos'è? guarda cosa, guarda, ho 100 e guardate una cosa, wow, la macchina si gira così, si gira così, vedi questa cosa, si gira io vedi come fa, bello, allora, scatola sezione attento, attento allora adesso attento, con la macchina con l'alarm oh, c'è una cosa nuova ancora, questo incrocio, abbiamo distributore, no così, ecco, un distributore Abbiamo ponte, ponte, però noi ponte, Alex, serve a noi, no, serve a noi con ponte, un ponte più bello. È una cosa che fa così, è una macchina valdina, una macchina abbastanza. Alex, tu non vuoi iniziare a costruire la pista? Dai, inizi, tieni i pezzetti. Ah, noi vogliamo anche unire con questa? Dobbiamo fare su tutto il tavolo? Sì. Wow, allora, spostiamo questa pronta qua, mettiamo così. Eccoci qua, mamma mia, abbiamo grande tavolo, però tutto in città. Alex, quindi qua dobbiamo già, vedi, unire questa pista, però ricordati che dobbiamo fare una uscita, questa qui, dove si può fare il giro. Aspetta, 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 lo sai com'è? Perché quando lui entra, eh, questo, così. Io ti volevo dire qualcosa. Guarda, questo, prendi questo pezzo, questo unisci, questo unisci di qua, e unisci quello lì, dai. Unisci, unisci questo qui. Ti volevo dire qualcosa, se l'abbiamo messa qua c'era una pista che l'altra costruiva. No, 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 ti dico io che così sarà più bello, lo sai perché? Lo vedrai adesso. Secondo me, secondo me così dovrebbe essere. Faccio io, no, 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 così, così, bravo, così, qui ci siamo. Ah, ho capito, questa pista l'attacchiamo qua. Attacchiamo, guarda quanti pezzi, è ponte, sì, ma guarda quanti pezzi qui ci sono. Io non so se ci sta tutto qui da noi su tavolo, aspetta, Alex, adesso dobbiamo pensare come costruire, perché dobbiamo fare anche un ponte. Facciamo Alex ponte così facile. Guarda, una ruota. Guarda, guarda, guarda. 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 Alex, io ti ho chiesto, mi aiutti costruire la pista? Tu cosa stai facendo? Guarda. Guarda, tu non costruisci la pista, capito? Allora, faccio io da solo. Fai, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. ecco ragazzi guardate che pista abbiamo fatta cioè da qui grande 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 se ne va così dopo passa di qua che cosa fa? si gira e va là e va e dopo si fa di nuovo un giro fa di qua entra 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 e va così oh perciò direi Alex possiamo iniziare si fai te primo ecco no Alex sei pronto via no via 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 allora parto pure io no Alex adesso sarà incidente via via qui è stato fatto un incidente via 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 Poi ripesta, tutti due! Uno di qua! Uno di qua! Vi! No! Seconda me no! Allora quella vallola, questa va di qua! Vediamo, si incontra no no! Sia zato Alex! Ecco via, bravo! No! Questa va di qua! No! No! Grazie qui c'è proprio un rally! Un rally! Via! 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 Ragazzi, io la sua una cosa! Io domani unisco 5 pizzi! Uniamo 5 pizzi! No! Aspetta! Aspetta! Ah! Possiamo fare solo con due macchine! Aspetta! Aspetta! Calma! Calma! Facciamo solo con due macchine! Avete visto? Solo con due macchine! Ma pericoloso! Secondo me, come ho guardato io, la pista è molto molto grande! Molto grande Siale! Però lo stesso! Ci incontriamoci sempre! Perché le macchine vanno molto molto veloce! Tu vuoi provare con due? No! Con tre! Con tre abbiamo fatto! Un casino! Un casino si fa con tre macchine! No! Con tre piste! Ah! Con tre piste però! La macchina posso partire? O tu quale? Meglio partite! Facciamo provare se passano in due! Almeno! Accendi! O la seconda macchina! Vai! Metti qua! Perfetto! Proviamo! Adesso vediamo almeno così! Si incontrano! Si incontrano almeno due macchine! Si! Ecco! Spassalo! Spassalo! Ecco! Bravo! Ci abbiamo riuscito! Vai dietro! Qua! Vai! Vai Alex! Wow! 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 Ecco la macchina! Arriva! 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 No! Fuori pista! Emergenza! C'è emergenza! Ponte rotto! Ponte rotto! Ponte rotto! Guardate cosa succede quando ponte... Alex ha fatto un problema! No! Ecco la caduta Alex! Ponte rotto! Un'altra volta Alex! Si! Bravo! La macchina è salvata! Dobbiamo chiamare l'ambulanza! Ripara il ponte! È venuto il meccanico e ha aggiustato il ponte! Bravo! Ponte è aggiustato! E partiamo con tutte le macchine! Adesso scopriamo! Una contro due! Ecco! Grande incidente! Grande incidente! Grande incidente! Io rubo intanto un pezzo di pista! Proviamo così a scorciare la pista! E faccio prendere una corona! Troppo corta! Troppo corta la mia corona! No! Spegni! 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 Proviamo così! Allora! Io tolgo di qua un pezzo! Tolgo di qua un pezzo! Questo mettiamo qua! Questo mettiamo qua! Questo mettiamo qua! Ti incontro non lo stesso! No! Io lo sai cosa vuoi fare? Un giro tondo! Così! Ecco! Facciamo! Carichiamo la macchina qua! Carica! Vai! Ecco! Una partita! No! È girata! Aspetta! Secondo me... Tocca prendere un pezzo! Perché secondo me è troppo... Troppo grande, no? Riproviamo! Attacchiamo questa qua! Così! Alex! Dai! Prova! Prova ora! Prova! Se va bene? Ecco! Così va bene! E una! Ecco la qua! Tieni Alex! Che vuoi mettere i tre? No! Non ce la fai Alex! Non ce la fai secondo me! Si! Ecco! Prima Alex! Guardate! Tre macchine che girano! Alex! Spendi le macchine! Ok! Spendi le macchine! Guarda di cosa sto pensando io! Ce la fai a metterle qua? A me sopra? Ok! Ragazzi! Io ho paura che queste macchine mi faranno male! E fatto! No Alex! No! Non va! Non va! Non va! Va bene! Oh! Fammi provare la mia testa! Aspetta! 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 No! Non va Alex! Caricali qui! Carica qua! Cosa puoi fare? Esatto! Così! Aspetta! Eccoci qua! Possiamo fare un trampolino! Trampolino! In italiano Alex dice Facciamo un trampolino! Ecco! Proviamo così! Eccoli! Ecco lì! Pi 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 pi! Pi pi pi! Pi pi pi! Questa si fa! Adesso... Si! Io sono più veloce! Bravo! Bravo! Avete visto ragazzi cosa abbiamo compiandato noi con Alex? Allora! Vi iscrivetevi! Vi guardate il nostro nuovo video! Non è tanto! Vi! 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 Vi!